Oggi vi spiego come fare i vestiti alle bambole con maglieria magica della Matter e così al contrario Allora, come funziona? Allora, così la levetta va e poi si stoppa dopo un po' e invece così va per tutto il tempo Allora, come si usa? Devi partire sempre da quello colorato quello diverso dagli altri e lo metti così e poi lo infili dentro l'altro lo metti più come quello lo metti dietro intanto ieri dentro, fuori, dentro, fuori, dentro no, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori finché non arrivi a quello di nuovo colorato a quello di nuovo colorato non continui così e soltanto tenendo sempre piatto il filo devi girare semplicemente la leva in questo modo finché non tenete la misura che avrete in questo punto a questo punto se volete inserire un altro colore basta tagliare il filo con delle forbici e con un altro filo fate un semplice nodo così 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 che poi no, un nodo così adesso sempre tirando il filo continuo normalmente come avete continuato fino adesso visto vi fermate quando avete ottenuto la lunghezza che volevate e adesso vi faccio vedere alcune mie opere alcuni vestiti qui sono sono qui come vedete potete farlo in tinta unita tutto di un colore no? oppure come vi faccio vedere cambiare il colore no? e poi cambiare il colore quanto vuoi ok? ok